Buonasera, benvenuti a tutti su Focus 3.0, il mistero della vita. Ringrazio come sempre l'ospitalità in questa rubrica dedicata all'Ayurveda, Enrico Ballantini e Anna Tamburini-Torre e questa sera, come avete visto dal titolo, vi parlerò della tradizione ayurvedica e soprattutto di come questa tradizione sia stata riportata, la sua dignità e completezza, da Marishima Eshioji, che ha introdotto anche alla fine degli anni 50 la meditazione trascendentale un po' in tutto il mondo, in Occidente, trasferendo questa antica conoscenza millenaria dalle cime dell'Himalaya anche ai nostri paesi, le nostre città, le nostre nazioni, un po' a tutto il mondo. E ancora poi parleremo di qualche cosa che riguarda molti di noi, cioè le articolazioni doloranti, il fatto che in inverno queste problematiche aumentando il freddo si ripresentino e anche qui vi darò qualche suggerimento come al solito per poter gestire queste situazioni, anche vi potrò indicare delle piante medicinali e dove sono contenute queste piante medicinali per recuperare il benessere dal punto di vista articolare. L'altra trasmissione del mese scorso avevamo visto anche lì un argomento che riguarda un po' l'avvicinarsi, anzi ormai è avvicinato del tutto, del freddo, della stagione invernale. Siamo ancora in autunno, però a breve inizierà l'inverno e anche se quest'anno le temperature sono comunque cambiate, sia nell'estate molto calda che abbiamo avuto, sia in quella poi inizio di autunno ancora tiepido, non così aggressivo. Saluto intanto chi si sta collegando, mi sta salutando. Però nonostante questo adesso la stagione si sta avviando veramente verso il freddo e quindi vi ricordo ancora qualche concetto che comunque fa parte sia della prevenzione invernale e del mantenimento della buona attività del sistema immunitario, ma poi più specificamente, come vi dicevo, parleremo della situazione a livello delle nostre articolazioni. La medicina ayurvedica, come vi ho fatto conoscere fin dalle prime trasmissioni che ho fatto su questo canale di Facebook, nasce migliaia di anni fa, forse milioni, perché in realtà come si legge nei testi classici ayurvedici, la medicina ayurvedica esiste da quando esistono le leggi di natura che organizzano questo universo. È un po' come dire, esisteva già prima che Einstein la scoprisse la relatività generale, così come esistevano già prima altre leggi fondamentali della fisica tradotte in formule dalla matematica che stanno sempre più emergendo nel mondo della scienza moderna. Però l'essere umano non le aveva ancora colte, non le aveva ancora fatte sue, non le aveva ancora scoperto come queste leggi siano fondamentali per poi ottenere dei risultati nella tecnologia, ottenere del benessere per l'umanità. Perché la scienza, lo scopo della scienza è da sempre e ci auguriamo che emerga sempre di più questo aspetto al servizio dell'umanità perché tutti noi stiamo meglio. E come vi avevo già detto in altri miei interventi, la scienza vedica di cui la medicina ayurvedica fa parte è una scienza che comprende tantissimi aspetti di quello che è il possibile dialogo tra l'essere umano e se stesso e tra l'essere umano e l'ambiente circostante. E per ambiente non ci limitiamo al nostro pianeta ma ci rivolgiamo a tutto quello che esiste nell'universo perché ormai la fisica, l'astrofisica ci hanno fatto capire che il nostro sistema solare immerso in questo spazio infinito ha delle correlazioni molto importanti che si manifestano sia nel piccolo che nel grande nella scienza vedica si dice che com'è il microcosmo così è il macrocosmo, com'è la mente umana così è la mente cosmica quindi queste correlazioni, questo poter descrivere quello che avviene nel nostro organismo così come avviene nell'universo intorno a noi ci fa capire che siamo parte di un grandissimo progetto che è la vita, l'esistenza e la scienza vedica ci ha dato, ci continua a dare, più la studiamo, più la approfondiamo, più la applichiamo soprattutto più la facciamo nostra, ci ha dato, ci dà e ci darà degli strumenti per poter interagire al massimo delle possibilità nostre ambientali con tutto quello che esiste nella natura che ci circonda e che ci anche struttura la scienza vedica dal punto di vista anche storico possiamo dire che è l'unica scienza che l'umanità ha potuto mantenere intatta e inalterata perché in realtà è la scienza che ha contraddistinto tutte le civiltà tradizionali, tutte le culture tradizionali però in qualche modo queste grandissime culture antiche delle quali conserviamo ancora delle vestigia, dei ricordi e anche culture di cui forse non abbiamo potuto avere registrazione in qualche modo si sono frammentate in qualche modo hanno perso quella possibilità di essere studiate dall'umanità e questo fatto ha reso di dubbio efficace, di dubbio utilizzo tutte quelle culture tradizionali che in qualche modo sappiamo essere state grandissime parliamo dei Sumeri, degli Astechi, dei Maya, parliamo degli Egizi, dei Greci, i Latini parliamo delle civiltà persiane, degli indiani d'America, degli indiani e dei popoli che contraddistinguono l'America Latina pensate la Bolivia, pensate il Peru, quante vestigia architettoniche ancora abbiamo però di come loro organizzassero la vita, organizzassero la medicina abbiamo solo dei frammentari ricordi la Yurveda, la scienza vedica grazie al fatto che l'India proprio come struttura anche geografica è da sempre molto protetta le cime dell'Himalaya, delle catene Himalayane che la proteggono alle spalle il mare intorno, ha fatto sì che questa civiltà in qualche modo venisse protetta geograficamente da questa sua dislocazione, collocazione e poi gli indiani anche adesso, gli indiani diciamo moderni tra virgolette parlo degli indiani dell'India ovviamente hanno proprio questa loro caratteristica di conservare il più possibile le cose di non buttare mai via niente e questo ha fatto sì che questa cultura rimanesse inalterata, protetta nell'ambito delle famiglie tradizionali che di queste varie materie si occupavano infatti la scienza vedica, vi ho già detto in altre occasioni, in altre circostanze è suddivisa in 40 aspetti differenti possiamo dire ognuno dei quali prende un'angolatura diversa per darci testimonianza e informazione sui diversi aspetti che caratterizzano la nostra vita la Yurveda si occupa della salute lo Stapatia Veda si occupa dell'architettura il Jyotish si occupa dell'astrologia, dell'astronomia e della matematica il Gandharva Veda della musica lo Yoga della capacità dell'essere umano di ricondurre la sua vera natura completamente a questo stato di quiete profondamente stratificato alla base della nostra esistenza e così via tanti altri aspetti anche più sottili e meno come dire legati a qualche cosa per cui noi abbiamo l'abitudine con cui noi abbiamo l'abitudine di raffrontarci cioè la materialità o perlomeno la materialità apparente che ci stratifica e ci costituisce e che ci circonda quindi che cosa è successo? che queste famiglie famiglie in cui si tramandano la Yurveda quindi di medici aiurvedici famiglie in cui si tramandano Stapatia Veda quindi architetti vedici famiglie in cui si tramanda il Jyotish quindi astrologi vedici famiglie di musicisti per il Gandharva Veda hanno sempre tramandato dalla notte dei tempi di genitori in figli queste antiche conoscenze e oltre a questi aspetti come vi dicevo più manifesti più vicini un po' al nostro modo di essere al nostro modo di sentire ci sono altri aspetti estremamente importanti non dico più importanti perché tutto nella scienza vedica è importante che caratterizzano quella fascia diciamo più sottile e frequenziale da cui scaturiscono tutte le altre formulazioni possiamo dire tutte le altre discipline queste parti più in manifeste fanno parte di quella struttura di questi quattro Veda fondamentali intanto Veda non significa l'abbiamo detto tante volte conoscenza ma significa anche coscienza nel senso che ormai come ci dicono anche le neuroscienze tutto quello che sperimentiamo nella vita e che il nostro cervello è abituato a decodificare a tradurre e a esprimere in realtà parte da un'esperienza molto più profonda che usa il cervello come una sorta di mezzo di trasmissione un po' come la radio o la televisione o il computer che trasmettono le frequenze delle onde radio delle onde televisive ma se non ci fossero queste onde anche se abbiamo in casa un televisore super raffinato super tecnologico se non c'è una trasmissione di onde questo televisore rimane un mobile senza utilizzo all'interno del nostro appartamento della nostra casa quindi tutto quello che traduciamo attraverso il cervello viene da questi strati più sottili di pura coscienza in sanscrito questo livello viene chiamato atma se e i fisici lo chiamano il campo unificato di tutte le leggi di natura queste frequenze esistono nella struttura dell'universo e sono codificate da queste recitazioni più antiche da queste recitazioni che hanno un valore frequenziale piuttosto che un valore di significato queste recitazioni adesso cerco di trovarvene una in questa mia applicazione e farvelo ascoltare hanno un valore molto diciamo importante dal punto di vista del mantenimento della struttura dell'universo e del mantenimento della struttura della nostra neurofisiologia in altre trasmissioni sicuramente vi ho parlato di questa ricerca portata avanti da più di vent'anni e strutturata scritta in questo meraviglioso testo da questo medico libanese che si chiama dottor Tony Nader che è riuscito sull'ispirazione di Marishi Maeshi Oggi che è stato come vi dicevo colui che ci ha permesso di accedere a questa grandissima tradizione introducendo alla fine degli anni 50 la meditazione trascendentale ma che poi negli anni 80 ha incominciato a risvegliare e a cercare grazie ai suoi collaboratori in giro per l'India queste famiglie tradizionali che ancora conservavano la conoscenza della Iurveda dell'architettura vedica o sapatia veta del Jyotish o astrologia vedica dell'agricoltura vedica di tutte quelle conoscenze che potevano e possono e potranno sempre di più diventare un supporto per la conoscenza umana quindi le antiche ma nel senso sì temporale ma soprattutto nel senso di struttura ancora più legata alla frequenzialità che caratterizzano l'universo della scienza vedica sono di supporto proprio nel coltivare nel ravvivare nel sostenere quelle conoscenze che poi possiamo applicare attraverso la medicina ayurvedica per mantenere e recuperare la salute attraverso l'architettura vedica per costruirci una casa veramente in armonia con le leggi di natura e per avere attraverso la musica vedica un buon riequilibrio della nostra neurofisiologia e attraverso Jyotish l'astrologia vedica per avere delle informazioni su quali sono le direzioni giuste per la nostra vita in base a come è strutturato il nostro quadro di nascita che diciamo dà un'immagine di come sono le nostre attitudini però l'astrologia vedica è talmente precisa matematicamente che è in grado anche di fornirci le informazioni per quello che saranno le vicende dell'anno che dovremo affrontare allora prima di andare avanti in questa chiacchierata voglio farvi ascoltare quindi questa recitazione vedica che è il Sama Veda ascoltate occhi chiusi ee a 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 E.A.M. E.A.M. Aum I Aum Aum I 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 Aum Quindi sono legati alle strutture più intime e profonde della nostra neurofisiologia e ognuno di questi aspetti, di questi 40 aspetti come vi dicevo prima, ha un'attinenza specifica con determinate strutture della nostra neurofisiologia, con determinati parti del nostro organismo. Per esempio questo che abbiamo ascoltato adesso, questa recitazione, questo Sama Veda, è in rapporto, intanto Sama vuol dire equilibrio in sanscrito, ed è in rapporto proprio con tutte le parti della nostra colonna vertebrale, della trasmissione degli impulsi dalla colonna vertebrale attraverso i nervi in tutte le aree del nostro organismo. Siamo dodici paia di nervi che in qualche modo attivano delle zone diverse del nostro organismo. Tutto questo per fortuna, a tutto questo per fortuna Marishi ha dato una grandissima attenzione. Quindi in India, grazie al suo intervento, sono state riportate alla loro struttura originaria tutte queste recitazioni, perché come è stato dichiarato anche patrimonio dell'UNESCO, queste recitazioni, e in tutte le culture tradizionali ci sono delle recitazioni dei suoni particolari. Sentivo in radio questa sera quando tornavo a casa le recitazioni di questi popoli della Polinesia. Si parlava in questa trasmissione di Gauguin, questo grande pittore che ha fatto dei quadri meravigliosi sulla Polinesia, che ai suoi tempi ovviamente è stato deriso e disprezzato, e adesso i suoi più bei quadri sono nei migliori musei di tutto il mondo. e hanno fatto proprio risentire in radio delle recitazioni di questi antichi popoli, che sono poi i popoli collegati ai Maori, quindi Polinesia e Australia, anzi Nuova Zelanda, hanno questi collegamenti attraverso questa antica civiltà. Quindi ogni popolazione, pensate agli indiani d'America, pensate a tutte queste grandi culture di cui abbiamo avuto l'esperienza di ascoltare determinati suoni, determinati canti, possiamo dire, o recitazioni. Quindi possiamo dire, come dicevamo già nelle altre trasmissioni, parlando della medicina ayurvedica, che tutte queste tradizioni antichissime hanno tutte la loro origine nella scienza vedica. Ma questo proprio in virtù del fatto, come vi dicevo prima, che questa antica tradizione, la scienza vedica, ha trovato nel substrato dell'India quella caratteristica importante per cui non sono andate perse. Le vestigia degli indiani d'America, piuttosto che dei Maia, delle Astecchie e così via, abbiamo pochissime memorie, forse in alcuni casi non ne abbiamo affatto. Quindi queste frequenze, e Stefania dice appunto, bellissimo, io ho visualizzato delle onde circolari, è un nucleo centrale, e queste frequenze cosa fanno? Fanno sì che la nostra mente, che già ha la voglia di sperimentare questi livelli frequenziali molto più ordinati, tranquilli e profondi, grazie allo scorso di queste vibrazioni così profonde, oltre che antiche, abbia più facilmente questa esperienza che, ai livelli più sottili, può coincidere senza sforzo con il ritrovare, se siamo lì a occhi chiusi, delle immagini, dei colori, delle sensazioni molto diverse da quelle che proviamo nello stato di coscienza di veglia. Quindi quello che abbiamo sperimentato ci ha avvicinato a un quarto stato di coscienza. Anche Mariella dice questo mantra molto suggestivo, tocca le onde dell'anima, ho visualizzato delle piccole cascate di acqua che scorrevano tra una fitta vegetazione, e dell'estate di tipo quelle maori. Quindi vedete, poi ognuno ha delle memorie ancestrali che in qualche modo visualizzano, perché come esseri umani siamo molto abituati a trasformare le sensazioni in immagini, perché quando poi sperimentiamo il quarto stato di coscienza, cioè la coscienza trascendentale, lì in realtà l'esperienza è di beatitudine, di puro sé, e non c'è un'esperienza di visualizzazione, perché saremmo un pochino già più sopra. Però tutti voi avete fatto questa discesa spontanea per la mente, ve l'ho già detto altre volte, i neuroscienziati hanno definito questo stato default mode network, cioè di default il cervello, quando la mente si acquieta, entra in una sequenza di collegamenti neuronali molto diversi da quelli che si instaurano quando siamo attivi, quando siamo rivolti verso l'esterno. Quindi questo che vi ho voluto far ascoltare, per farvi capire l'importanza che ha il ritrovare tutte queste conoscenze e l'importanza che Marisci ci ha fatto capire riportando alla luce tutte queste tradizioni. Quindi come vi dicevo, lui fin dall'inizio di quando alla fine degli anni 50 è venuto in Occidente e ha girato il mondo, ha fatto tantissime volte il giro di tutto il mondo, ha comunque sempre mantenuto il contatto anche proprio fisicamente con i suoi collaboratori con l'India e la struttura della scienza vedica in India e ha riattivato tutte le scuole tradizionali in India per quei ragazzi che fanno parte già di famiglie di Bramini, cioè di famiglie che hanno in qualche modo coltivato nella loro tradizione di vita sempre la recitazione di parti specifiche della scienza vedica. Quello che avete ascoltato adesso, Rosangela, è il Sama Veda Sama Veda Magari su Youtube anche le potete trovare queste recitazioni e quindi Sama Veda, ripeto quindi quando Marisci ha riattivato queste scuole ha dato però un grande impulso al fatto che nel frequentare queste scuole i ragazzi fin da piccoli, perché fa parte della loro tradizione di famiglia è un po' come se un avvocato indirizzasse il proprio figlio a fare tutte le scuole per arrivare poi a essere a sua volta avvocato notaio quindi nella tradizione vedica ognuna di queste famiglie porterà il proprio figlio designato uno o più di uno a diventare un pandit delle recitazioni del Sama Veda piuttosto che del Rig Veda, dello Yajur Veda, della Tarva Veda e così via quindi mantenendo questa tradizione però Marisci ha voluto che si aggiungesse in queste scuole anche si ripristinasse più che si aggiungesse la pratica regolare della meditazione trascendentale e delle sue tecniche avanzate perché allora il fatto che questi ragazzi oltre a imparare a memoria tutte queste recitazioni sanscrite anche facessero e fanno l'esperienza della trascendenza meditare facendo la meditazione trascendentale regolarmente 20 minuti due volte al giorno dà alla mente la possibilità di espandersi di collocarsi su quel livello più piacevole e profondo che è quel quarto stato di coscienza che adesso anche grazie alla recitazione dei suoi medici verso il quale tutti ci siamo un po' avvicinati quindi in queste scuole ripristinate in tutta l'India Marisci ha riportato alla luce l'importanza non solo di imparare le recitazioni ma di farle da quel livello acquietato della mente a cui la mente si pone quando pratica la persona regolarmente la meditazione trascendentale quindi questo ha ripristinato fin dall'inizio e poi soprattutto negli anni 80 Marisci si è dedicato ripeto sempre attraverso i suoi collaboratori a riportare a galla la tradizione completa della medicina ayurvedica quindi quello che adesso viene chiamato vedete qualcuno di voi magari conosce i preparati li ha visti in farmacia e ha visto che c'è indicato Ayurveda Marisci è perché questi preparati fanno parte della produzione secondo le antiche tradizioni ripristinate della medicina ayurvedica perché c'è stato bisogno di ripristinarle perché come sapete l'India ha subito dominazioni di varie culture musulmane, gli inglesi 200 anni di dominazione e sfruttamento e quindi in qualche modo queste culture hanno voluto come siamo stati noi romani imporre all'India delle regole diverse anche fare dei servizi utili le ferrovie in India che funzionano tuttora molto bene sono state introdotte dagli inglesi però purtroppo gli inglesi hanno anche fatto tantissimi danni nell'impedire anche con la forza che venisse mantenuta la tradizione della scienza vedica della ayurveda e così via quindi quando Marisci ha capito l'importanza di riprendere in mano tutta questa trasmissione antichissima ha ritrovato proprio le radici attraverso queste famiglie ancora esistenti no, la Mariella non si facilita la trance non è una sorta di trance noi semplicemente non abbiamo bisogno di entrare in trance per sperimentare la trascendenza che è un quarto stato di coscienza quindi è un quarto stato di coscienza non di incoscienza veglia, sonno e sogno coscienza trascendentale cioè quando la mente sperimenta lo suo stato più espanso quindi il suo stato in realtà più cosciente non incosciente ed è uno stato diverso sia a livello dell'esperienza mentale dove c'è questa estrema quiete attiva ma sia a livello della fisiologia in quel momento cuore, respiro frequenza cardiaca e frequenza respiratoria sono diverse dalla veglia dal sonno e dal sogno quando questo stato viene sperimentato nei 20 minuti di meditazione trascendentale due volte al giorno per mesi e anni a un certo punto si svilupperà nel tempo grazie al fatto che quando la mente si acquieta il corpo e il sistema nervoso riposano e grazie a questo riposo il corpo spontaneamente elimina tutti gli ostacoli che impediscono alla mente di stabilizzarsi su questo livello di estrema coscienza ripeto, non di trance a quel punto la nostra neurofisiologia si purifica al punto tale che questo stato di quarto questo quarto stato di coscienza si stabilizza nella veglia nel sonno e nel sogno quindi a quel punto si sviluppa un quinto stato di coscienza quello che si chiama l'illuminazione la liberazione quindi moksha si dice in sanscrito quindi a quel punto non siamo più persi all'ambiente alle circostanze ai nostri stati d'animo ma siamo sempre assolutamente in pieno rapporto di equilibrio con noi stessi con l'ambiente con le persone e con tutto l'universo quindi questo per chiarire il punto riguardo a questo quarto stato di coscienza quindi grazie a Marisce e i suoi collaboratori oggi come oggi in tutto il mondo e in Italia è molto viva l'utilizzo e la conoscenza della Yurveda Marisci questa medicina sta riprendendo i suoi grandi splendori e sta dandoci tutti quei vantaggi e quei risultati di cui possiamo usufruire persino il governo indiano ha riconosciuto alla Yurveda Marisci la sua completezza l'ha messa al primo posto rispetto a tutte le altre forme di Ayurveda che in qualche modo in India si praticano diverse dal nord al sud all'est all'ovest che però mancano di questa integrità quindi facendo questo Marisci ha ripristinato tutte le metodiche di coltivazione delle piante tutte le metodiche di raccolta delle piante tutte le metodiche di purificazione delle piante perché è molto importante che noi abbiamo a disposizione dei preparati sicuri dei preparati integri dei preparati non inquinati non inquinati da pesticidi non inquinati dalla smog che contraddistingue tutto il nostro pianeta infatti le piante medicinali della Yurveda Marisci provengono dall'Himalaya e provengono principalmente dal Rajasthan che sono due regioni pochissimo inquinate in India quindi oltre a queste garanzie che ci vengono date proprio per questa produzione in queste zone dell'India giustamente quando entrano in Europa ed entrano in Italia hanno un ulteriore controllo molto scrupoloso a livello del dogane tale per cui spesso ricevere questi prodotti subisce qualche ritardo proprio per le procedure doganali molto scrupolose questo per dirvi che quando usate prodotti della Yurveda Marisci siete completamente sicuri di quello che state utilizzando oltre che della validità tradizionale anche della qualità di questi preparati e quindi tutto questo ha fatto sì che adesso con la Yurveda Marisci collaborino più di 150 vaidia i vaidia sono i medici tradizionali ayurvedici quindi questi vaidia questi medici sono quelli che ci hanno permesso ma è compresa di fare i grossi passi avanti nell'approfondire studiare la medicina ayurvedica approfondire studiare praticare l'analisi attraverso il polso ricordate ne abbiamo parlato la metodica più profonda più raffinata per conoscere lo stato di maggiore o minore equilibrio di che cosa di quei tre principi metabolici di cui abbiamo parlato in tante occasioni nelle mie dirette che si chiamano Vata Pit spazio aria coordina il sistema nervoso centrale periferico sede principale nel colon è secco asciutto freddo aumenta in inverno e questa sua secchezza quando aumenta dove andrà a finire principalmente a livello di organi pelle compresa ma una manifestazione di cui parliamo stasera è la presenza di questa eccessiva secchezza questo eccessivo spazio aria a livello delle nostre ossa delle nostre articolazioni l'osso è una delle sedi di Vata quindi già l'osso anche come struttura è rigido è poroso nei pori c'è il midollo osseo e quando si va avanti con gli anni vi ricordo l'abbiamo già detto in altre trasmissioni dopo i 60 anni aumenta Vata già l'ufficio i primi 30 anni di vita siamo più diciamo sostenuti e il dosha che ha preponderanza è il dosha kapha infatti kapha ha a che fare con l'acqua e la terra ha a che fare con la struttura la coesione la lubrificazione e quindi è molto utile nei primi 30 anni di vita che sono gli anni della crescita della strutturazione dei tessuti nella crescita in altezza nella crescita dei nostri organi e così via tra i 30 e i 60 anni aumenta o comunque domina la nostra fisiologia pitta pitta vi ricordo è fuoco è un pochino di acqua pitta quindi ha a che fare con tutti i processi metabolici digestivi di trasformazione di produzione di calore mentre vata ha più a che fare con i processi di comunicazione di movimento di trasporto e kapha come vi ho detto adesso struttura coesione lubrificazione quindi quando siamo nell'età pitta che cosa prevale quella luce quella chiarezza quella determinazione quella programmazione quella voglia di raggiungere obiettivi risultati proprio siamo nell'età che contraddistingue tutto il nostro desiderio di affermarci da 60 anni in avanti come vi dicevo adesso invece prende il predominio vata quindi la nostra struttura diventa un po' più fragile secca e molto più frequente che una persona dopo i 60 anni la mente sia più instabile che ci siano più problemi di disturbi del sonno che la pelle diventi più secca rosagera chiede se va bene oli mapp della iurveda marici per rafforzare il sistema immunitario assolutamente sì poi ve ne parlo adesso trattando poi anche l'apparato articolare quindi un prodotto molto buono perché contiene questa resina che si chiama gugul che viene da questa pianta molto grande che cresce nelle zone desertiche che si chiama commifora muculla e il gugul contiene delle sostanze che sono state esaminate chimicamente che sono state chiamate gugulsteroni no come gli steroidi e tutto quello che è contenuto nel cortisone però ovviamente è una sostanza completamente naturale il gugul e ha questo effetto antinfiammatorio quindi tornando alle nostre constatazioni su vata pitte caffa quando noi siamo dopo i 60 anni abbiamo un eccesso di vata abbiamo fatto una vita sempre a correre a guidare a preoccuparci come tutti noi cosa dobbiamo fare dobbiamo rafforzare riequilibrare caffa e diminuire e riequilibrare vata tutto questo come lo facciamo e quindi come possiamo migliorare le nostre strutture osse le nostre articolazioni che se no con l'eccesso di vata diventano troppo asciutte troppo porose le ossa ecco l'osteoporosi l'osteopenia che vengono sicuramente avanti dopo i 50 anni dopo i 60 a seconda anche di come ci siamo comportati nelle nostre anni precedenti perché chi semina bene raccoglie bene chi semina male raccoglie tempesta si dice la cicale la formica abbiamo tutta una serie di esempi che ci vengono dati per farci capire che dobbiamo prevenire oltre che curare perché se arriviamo ai 60 anni con una vita dove abbiamo sempre strapazzato il nostro vata sarà giocoforza che avremo molto più probabilità di avere osteoporosi disturbi articolari le articolazioni scricchiolanti la sinovia delle nostre articolazioni asciutte secca e tutto quello che le consegue con dolori incapacità di muoversi in maniera sciolta proprio perché abbiamo troppo esagerato da quel punto di vista quindi cosa facciamo per aiutarci intanto più possibile chi ascolta ed è in un'età più giovane di quella di cui vi parlavo adesso cioè dopo i 60 anni chi è in un'età più giovane faccia caso al fatto che è vero che adesso si sta bene perché qualsiasi cosa facciamo magari anche cose non adattissime però basta che ci mettiamo poi un po' in riga per due o tre giorni e tutto torna come prima dopo i 50 o 60 anni due o tre giorni non bastano più quindi il consiglio per tutti è di come abbiamo sempre detto pasto principale a pranzo dove mangeremo anche proteine animali se non siamo vegetariani la cena deve essere un pasto leggero senza proteine animali senza formaggi senza uova senza patate senza verdure crude il crudo aumenta molto sovata molte persone sono convinte che mangiare verdura cruda ci faccia bene perché manteniamo le caratteristiche delle verdure non è vero per niente anche la medicina moderna ha visto che la verdura cotta permette maggiormente al nostro potere digestivo di assorbire quelle sostanze che si chiamano bioflavonoidi che sono quelle che hanno tutte quelle caratteristiche nutritive che attribuiamo appunto ai vegetali quindi una cottura non troppo profonda quindi non la bollitura sicuramente ma neanche la cottura a vapore ma come vi ho detto in tantissime altre trasmissioni la cottura stufatura su un primo supporto di ghi il burro chiarificato che essendo senza più casino lattosio unità è un grasso facilmente digeribile e che idrata i nostri tessuti quindi abbiamo bisogno di qualcosa che ci idrati che ci nutra il grasso grasso quello giusto l'olio riduce la secchezza la secchezza non solo esternamente ungendoci con un olio che è una cosa assolutamente che la iurveda ve l'ho detto tante volte ci consiglia anche quotidianamente di farci un massaggio con l'olio di sesamo di tipo vata se abbiamo una pelle secca di tipo pitta se abbiamo una pelle più reattiva e sensibile e di tipo caffa se abbiamo una pelle più untuosa mariella pasta e lenticchie ottimo io stasera ho mangiato la vellutata di zucca con dei crostini e quindi ottima cena io ho messo anche un pochino di olio crudo però si poteva mettere anche un cucchiaino di ghi e ho messo delle spezie ho messo il ciurnavata che contiene cumino zenzero curcuma fieno greco assafetida le spezie riducono quelli che sono i processi di fermentazione a livello intestinale e di gonfiore che possono essere portati dall'assunzione dei legumi la buccia del legume può darci quel gonfiore quindi il completamento con le spezie ci fa tollerare di più e digerire meglio questi magnifici alimenti soprattutto per chi come me è vegetariano la proteina vegetale rappresentata dai legumi è molto molto importante quindi oliazione interna quindi l'uso del di per le cotture l'uso dell'olio d'oliva crudo assolutamente il nostro meraviglioso olio italiano l'oliazione esterna quindi ungere il corpo prima di fare la doccia al mattino olio vato olio pitta olio cafa l'uso l'uso di sostanze e di cibi cotti piuttosto che crudi perché il cotto è più digeribile il cotto è caldo e leggermente untuoso soprattutto in inverno lo cerchiamo molto volentieri la zuppa la mangiamo molto volentieri la vellutata la mangiamo molto volentieri in inverno in estate magari facciamo più volentieri un'insalata di farro con delle verdure cotte ma la mangiamo più volentieri a temperatura ambiente il piccante va bene ma non il piccante troppo spesso del peperoncino o del pepe nero pepe nero e peperoncino possono essere usati ma le spezie più delicate che pur mantengono quel giusto grado di piccantezza come vi ho detto adesso sono zenzero cumino curcuma semi di finocchio cardamomo coriandolo fieno greco assafetida quindi trovate in farmacia queste miscele che chiamano ciurna vata ciurna pitta ciurna caffa che hanno queste qualità perché hanno queste spezie ben amalgamate tra di loro quindi l'alimentazione deve essere preferibilmente cotta soprattutto alla sera ma il pranzo comunque dobbiamo avere comunque della verdura cotta l'olio azione l'acqua calda bollita e poi ci sono come vi accennavo prima nel caso delle artriti artrosi degli oli medicati quindi oltre l'olio vata l'olio pitta l'olio caffa che possiamo usare per oliarci il corpo prima di fare la doccia però esistono degli oli in sanscrito l'olio si chiama thaila infatti abbiamo questo thaila map 1 thaila map 2 che trovate in farmacia a parafarmacia erbo che contengono delle piante anti infiammatorie per uso locale quindi il thaila map 1 è più indicato per le situazioni diciamo acute ho preso una storta ho preso una botta e mi massaggio il thaila map 1 nella zona che mi sta dando problemi il thaila map 2 numero 2 è più indicato per quelle situazioni croniche quindi il thaila map 2 lo possiamo usare appunto su un'artrosi un'arizzoartrosi un dolore lombosacrale nella zona dove ci fa male possiamo da soli facendoci aiutare massaggiare questo olio poi magari se abbiamo un'arizzoartrosi è facile anche dopo esserci massaggiati alla sera con questo thaila map 2 fare una soluzione salina satura con dell'acqua calda e del sale grosso quindi e mettere a bagno le nostre mani in questa soluzione salina tenerle a bagno finché l'acqua diventerà tiepida e a quel punto togliamo le mani e le asciughiamo e buttiamo via questa soluzione salina per bocca possiamo usare abbiamo visto prima la domanda di chi voleva sapere se l'olimap della iurveda ma riesce a un buon prodotto per il sistema immunitario assolutamente sì quindi diamo un po' lo spazio sia al sistema immunitario ma anche al sistema articolare per la presenza di queste piante anti-infiammatorie quindi la iurveda ha piante anti-infiammatorie molto buone questa che vi citavo quella da dove si ottiene il google la comifora mucul ha queste caratteristiche proprio di avere questa proprietà anti-infiammatoria Mariella l'argilla bianca va benissimo ma l'argilla bianca diciamo fa un lavoro un po' di assorbimento ma la comifora mucul il google e con il google nell'olima appena i prodotti che contiene 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 contengono il google ci sono tante altre piante con un effetto anti-infiammatorie molto profondo la trifala stessa ha queste qualità di questi tre frutti terminalia chebola terminalia belleri che è un blico officinale che purificano e sfiammano sono tre frutti molto importanti si trovano in tantissimi preparati aiurvedici per esempio levomap quindi quello di prima si chiama olimap e si scrive così come ve lo sto pronunciando così come levomap si scrive come ve lo sto pronunciando il levomap viene anche chiamato trifala google cioè c'è il google e c'è la trifala quindi va bene sia per le articolazioni infiammate che per il fegato un pochettino infiammato e sovraccarico con magari un livello del colesterolo diciamo totale o nel colesterolo cattivo un po' troppo alto quindi levomap olimap e poi abbiamo astimap e puramap queste due preparati quindi puramap e astimap i prodotti li trovate in farmacia a Mariella quindi non c'è bisogno il nome esatto ve lo sto già dicendo olimap levomap puramap così come ve lo sto pronunciando lo scrivete molto 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 semplice e astimap hanno oltre al google soprattutto l'astimap anche la presenza dell'aglio l'aglio è un alimento ma anche una spezia molto importante perché riduce molto vata e quindi ha questa capacità di togliere quella pesantezza dovuta all'eccesso di vata che va a disturbare le nostre articolazioni e poi abbiamo un prodotto per le articolazioni che invece va più sulla possibilità di presenza infiammatoria che si chiama Fleximap no? Fleximap no? flessibile Fleximap questo contiene la bosveglia serrata la bosveglia è una pianta di cui trovate magari in commercio integratori solo di bosveglia ma in realtà non sono così utili no? come anche i prodotti a base solo di curcuma curcuma e pepe in realtà non sono così utili perché l'utilità come vi ho già detto in altre trasmissioni dei prodotti ayurvedici è che hanno miscele di piante la cui somma totale finale è più della somma delle singole piante quindi si crea una sorta di effetto globale finale dovuta alla peculiarità della combinazione di tutte queste piante capite? quindi fleximap puramap astimap il fleximap più per le articolazioni esatto Stefania le articolazioni infiammate quindi dove c'è calore infiammazione puramap e astimap soprattutto dove c'è una artrosi più che un'artrite no? quindi un difetto di movimento un dolore articolare acuto e l'olimap che vi ho nominato prima che va soprattutto a rafforzare sia le articolazioni ma anche i processi digestivi e anche il sistema immunitario e gli oli thailamap 1 thailamap 2 il levomap vi ho nominato la trifa la google quindi sia per disturbi del colesterolo del metabolismo a livello epatico che i dolori articolari un ultimo accenno a un oliettino in un piccolo contagoccia che si chiama aromap che appunto è un olio aromatico contiene diversi oli essenziali balsamici canfora eucalipto menta quindi va bene per i suffumigi ma va bene anche applicato su una botta su un dolore articolare anche un po' acuto anche miscelato a quegli altri due oli che vi ho nominato oppure applicato anche da solo in quella zona si possono fare con l'aroma anche i suffumigi adesso stagione in cui ci può dare molto sollievo io li dovrei prendere tutti vi ricordo che dobbiamo fare la depurazione con l'acqua calda bollita nutrirci in maniera adeguata fare una cena leggera usare il ghi tutto questo fa sì che le nostre articolazioni siano meno infiammate quindi e poi vi ricordo se siete anche in giro per l'Italia che anch'io sono in giro per l'Italia quindi magari mandatemi un messaggio il mio numero lo potete richiedere a l'olio T3 va molto bene è una un'ottima preparazione l'aromappa è molto simile all'olio T3 infatti si può mettere l'aromappa anche sulle micosi dell'unghia piede d'atleta eccetera ed è molto risolutivo comunque vi do al mio numero 335 5612 115 anche stasera è stato un piacere potervi parlare di questi sempre i temi che spero vi abbiano interessato certo l'acqua bollita va fatta tutti i giorni acqua bollita per 15 minuti conservata in un termos per mantenere il calore possiamo aggiungere al limite anche una fettina di zenzero fresco e tutti i giorni più o meno ogni ora ci beviamo un sorso di quest'acqua più facciamo regolarmente queste cose di meno preparati aiurvedici avremo bisogno e poi migliorare mi raccomando la digestione ma soprattutto rispettare i tempi del pranzo come pasto principale e la cena assolutamente leggera ringrazio ancora Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre ringrazio tutti voi buona serata e alla prossima ringrazio ringrazio ringrazio